E' stato giocato in maniera efficace Era pranzo Doveva essere un piano di fase intermedia E' un po' molto orgulloso Il palo sfonda allo strato di frollo Il palo sfonda allo strato di frollo Il palo sfonda allo strato di frollo Allora, questo lì, Mattia, sentito questo che è molto sporco Vai, Lara! No! 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 No!